Parliamo di tradizioni. A Canosa di Puglia è stato ricordato il miracolo del sacro cuore di Gesù. Un secolo fa la statua di Cristo si animò improvvisamente e cominciò a piovere dopo mesi di siccità. Accadde esattamente un secolo fa il volto della statua di Cristo cambiò come espressione. Decine e decine di fedeli dichiararono davanti ad un notaio di aver visto gli occhi alzarsi al cielo, le guance diventare rosse, così come il cuore che stringe nella mano. Era un periodo di forte siccità a Canosa di Puglia, all'indomani del 14 aprile del 1912 riprese a piovere. Le cronache dell'epoca parlarono di miracolo, la storia però è finita nel dimenticatoio. C'è il rischio che il tempo, i giovani, dimentichino, per cui è importante dell'occasione questo anniversario per riproporre, rispolverare, diciamo così, la memoria di un evento prodigioso, tra l'altro attestato anche da testimoni oculari che hanno reso atto davanti ad un notaio di quello che è avvenuto durante il passaggio dell'Eucarestia dalla cappella laterale sull'altare. La Chiesa non prese le distanze, pur non parlando ufficialmente di miracoli, Papa Pio X inviò a Canosa una somma per la costruzione di una cappella dove custodire la statua, un segno della presenza di Dio, lo definisce il teologo Don Ignazio Schinella. Dio cammina con la vita degli uomini e Dio è soprattutto vicino agli uomini nella Santissima Eucaristia di cui il cuore di Cristo è come il primo tabernacolo.